Musica Arrivano buone notizie verso una soluzione dell'annosa problematica di via Pasquale di Domenico. L'importante arteria provinciale che collega le frazioni Santa Lucia e Sant'Anna di Cava dei Tirreni da anni versa in precarie condizioni e in più occasioni è stata interessata da frane e smottamenti. In programma infatti nei prossimi giorni, presso il Palazzo di Città Metelliano, una riunione nel corso della quale si discuterà anche con i proprietari delle aree che affacciano su via di Domenico della proposta di esproprio in termini gratuiti delle porzioni di terreno utili a mettere definitivamente in sicurezza la strada. Come avevamo promesso già nei giorni scorsi, il sindaco ha convocato una riunione qui al comune di Cava dei Tirreni con il dirigente della provincia ranese, quindi parteciperò io, il sindaco e il dirigente ranese e poi sono stati invitati tutti i proprietari dei terreni che affacciano sulla strada di via Pasquale di Domenico. Ci sarà questa riunione il giorno 16, avviore 16 e quindi penso che andiamo verso una positiva soluzione della questione naturalmente a beneficio del territorio, a beneficio dei cittadini di Sant'Anna e di Santa Lucia. La proposta è questa qua, che ci sarà un es proprio naturalmente in termini gratuiti di un metro per lato così si allarga la strada e quindi si faranno tutti i muri di sostegno e quindi si metterà definitivamente in sicurezza quella strada.